buongiorno a tutti sono marco di coltelleria scintilla oggi vi presento il nuovo fox sherpa fx 610 sherpa è un coltello nato per il bushcraft survival e la vita outdoor notiamo già un bel fodero in cuoio caratteristica il porto anche orizzontale e l'anello sopra per un'ottima portabilità a cintura quando ci si siede con questo sistema si lavora il coltello non dà mai a fastidio eccolo qua fox sherpa cosa che impressiona subito è la volpe il logo e questo incavo per l'indice per far dei bei lavori per andar bene più maneggevole doppia bisellatura il la zigrinatura per un ottimo grip e questa asola posteriore acciaio d2 per una lunghezza di lama di 14 centimetri un 28 centimetri totali 5 millimetri di spessore finitura della lama in pvd di stonewash black fox il tutto per 180 euro qualsiasi informazione www.coltelleria scintilla.com o mi contatti pure presso il negozio lo 0422 56 029 buona giornata a tutti e saluti da marco coltelleria scintilla e saluti utzzè